Ed eccoci qua nel secondo video, anzi nel terzo video del registro di Fortnite dove io non riesco neanche a fare una partita Che ce l'hanno tutti, tutti con me Mi laserano, sono venuti 4 team a laserarmi in questa partita 2 a nord, 2 a sud, 2 a est e 2 a ovest 1, 2, 3 e 4 Mi hanno chiuso a panino, 4 team, come se si fossero messi d'accordo E mi hanno laserato, e mi hanno distrutto Perché c'erano 4 persone diverse Uno che pushava, questo qua che state vedendo adesso Poi non pushava più lui, ma stava pushando me Poi c'erano altri dietro, non avevo più mazza, non avevo più materiali, ce l'avevo finito Mi volevo andare a curare, ma letteralmente Adesso come ho fatto, ho reso conto della partita invece che ve l'ho registrata perché era come morire su Fortnite Mi ha distrutto anche, vabbè Sì, volevo dire una cosa importantissima Che se voi vi iscrivete al canale Voi, tu, se ti iscrivi al canale Se te ti iscrivi al canale, te che stai guardando questo video Mi supporterai davvero, davvero tanto Ti ringrazio Se ti iscriverai al canale Perché mi servi come supporto Mi supporterai Tu che ti iscrivi al canale Mi supporterai Tutti voi che